signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale e qualche mese fa oramai per voi che guardate il video si è venuta a creare una discussione anche abbastanza interessante sul gruppo telegram del master cae per quanto riguarda le campagne o comunque le queste estremamente brevi e quindi ho pensato che è meglio farci un video a riguardo ho notato infatti che sembra esserci una specie di dicotomia tra chi ritiene che l'unica cosa seria da fare il gioco di ruolo sono proprio storie estremamente brevi e chi al contrario ritiene che sotto i sei mesi non si può neanche parlare di campagna il gioco di ruolo ovviamente da quale parte pende la vostra bilancia è una questione di gusto personale quindi non sarò io qui a dirvi qual è meglio ma qua sul canale abbiamo parlato molto spesso di tecniche narrative che si adattano a campagne pensate per essere lunghe ma raramente abbiamo introdotto concetti pensate appositamente per le campagne estremamente brevi quindi diciamo che è arrivato il momento anche di fare qualcosa per l'altra fazione e cominciamo con una dissertazione teorica su cosa sono e quali sono i principali metodi di storia breve all'interno del gioco di ruolo il titolo l'avete visto questa settimana andiamo a parlare di one shot bottle episode villa arc questo sarà un altro di quei video tecnici che piacciono tanto a quattro persone e il resto degli iscritti non arriverà neanche a vedere questa frase prima di andare avanti diciamo che dobbiamo dire due parole su che cos'è un arco narrativo se non il discorso di questa settimana è abbastanza impenetrabile non si può fare un discorso completo anche perché di che cosa sia la struttura narrativa ne abbiamo parlato per l'intera terza stagione vi metto piuttosto la playlist qui se dovete andarla a recuperare però non è qualcosa che si può risumere in cinque minuti all'inizio di un video per quanto riguarda quindi noi ora diciamo semplicemente che un arco narrativo è un insieme di eventi logicamente interconnessi tra di loro che abbia una struttura cioè un inizio uno svolgimento è una fine diciamo che la base la sorta di colonna vertebrale su cui si regge l'intera struttura della vostra storia ogni quest avrà un suo arco narrativo principale che proprio è la la cosa più importante la main story all'interno della vostra campagna e degli archi narrativi minori che sono storie più brevi o meno importante legate a singoli eventi o magari singoli personaggi e sono proprio questi di cui andremo a parlare oggi e la prima cosa da dire è che non date per scontato che un racconto breve una storia breve debba per forza essere autoconclusiva all'interno di una campagna più lunga potrebbe esserci comunque motivo per inserire una linea narrativa secondaria più breve quindi il primo mito a sfatare che campagne lunghe campagne corte non sono qualcosa di mutualmente esclusivo e ovviamente al contrario una campagna molto lunga potrebbe essere una campagna estremamente episodica una sorta di telefilm in cui ogni storia ha un inizio e una fine è finita una storia i giocatori ne cominciano un'altra andando così avanti magari anche per anni ma senza che questa sviluppi mai una linea narrativa orizzontale cioè una storia che colleghi tutte queste mini sessioni tra i loro al di là di questo una storia breve può servire appunto per specificare informazioni o approfondire eventi minori quindi anche se voi siete nella fazione del preferire storie lunghe oggi vi spiegherò perché potreste magari voler inserire delle storie più brevi all'interno della vostra campagna cominciamo con one shot che probabilmente è il termine con cui siete già più familiari anche se avete iniziato da poco il vostro viaggio nel mondo del gioco di ruolo si parla di one shot quando la campagna la quest e l'arco narrativo coincidono in un'unica unità cioè l'inizio lo svolgimento e la fine della storia coincidono con l'inizio svolgimento della fine sia dell'intera quest sia dell'intera campagna praticamente è una campagna fatta da una singola quest questa è una cosa che ci tengo a sottolineare non necessariamente la one shot deve durare una singola sessione una one shot potrebbe comunque durare più di una sessione normalmente non lo fa perché sono appunto storie pensate per essere estremamente brevi ma non è il fatto di durare una singola sessione a essere quello che caratterizza una one shot quasi sempre le incontrerete infatti o a qualche fiera o convegno in cui c'è qualcuno che sta facendo vedere il gioco e quindi la gente deve poter provare il gioco e poi farsi anche il resto della fiera quindi la quest deve essere brevissima o magari un master anche privatamente che vuole provare un regolamento provare dei personaggi comunque vuole fare qualcosa in cui non vuole investire così tanto tempo magari la farà però come ho detto non è indispensabile che siano effettivamente brevi se pensate a il generatore a fallout story che è una serie che abbiamo fatto qui sul canale ve la lascio linkata qui in alto se siete curiosi tutto l'actual play di quella quest ai giocatori è durato per quattro sessioni quella era comunque una one shot è stata più lunga del solito perché dato che l'idea era quella di usarla per far vedere come si costruisce una quest c'erano situazioni ripetute i personaggi erano più strutturati c'era anche una storia un attimo più complessa dentro però sempre una one shot rimane diciamo che questo è il tipo più semplice di storia che potete portare al tavolo e quindi soprattutto se siete dei principianti o in linea generale o magari avete già masterato altro ma vi state approcciando per la prima volta un manuale che non conoscete ancora bene probabilmente questo è il progetto più alla vostra portata che potete effettivamente mettervi a fare può capitare che anche all'interno in una campagna più lunga ci sia la necessità di introdurre una storia più breve che non sia legata né ai temi né proprio alla storia principale di quella campagna in questo caso parliamo di bottle episode il nome che volendo potremmo tradurlo come episodio in bottiglia deriva proprio al fatto che potenzialmente questa è una linea narrativa che potrebbe essere presa chiusa nella bottiglia e tolta senza che il resto della storia ne messe in realtà gravi conseguenze i motivi per inserirlo sono i più disparati ma molto spesso lo si fa perché proprio all'interno della fiction di gioco stessa sono i personaggi giocanti a prendersi una pausa da quella che è la loro missione principale per dedicarsi ad attività relativamente meno importanti che possono essere semplicemente i personaggi si stanno riposando o anche attività che hanno uno scopo meccanico all'interno del gioco magari hanno deciso di fermarsi qualche settimana per costruire o andare a recuperare nuovo equipaggiamento o farsi una rete di contatti conoscere nuove persone dopo essere tornati nell'esplosione del dungeon negli avventurieri vanno in città a vendere il loro tesoro e girando per il mercato incontreranno dei png bislacchi che li coinvolgeranno in qualche attività buffa per quanto gli eventi che avvengono all'interno del bottle episode non siano di passere rilevanti per la trama non vuol dire che questa linea narrativa non possa avere un uso pratico nella campagna più grande il primo per esempio è quello che potrebbe essere utilizzata per fornire o ribadire informazioni che i giocatori dovranno utilizzare più avanti mentre girano per il mercato coi png buffi i personaggi vedranno la città quando tra diverse sessioni la città verrà attaccata loro avranno già un'idea di come è fatta la città e qual è la sua mappa proprio perché l'hanno esplorata durante il bottle episode molto spesso poi un bottle episode potrebbe essere utilizzato per motivi che non hanno niente a che fare con la struttura della storia ma con il fatto che il gioco di ruolo è un'attività collaborativa e può capitare che non sempre ci siano tutti i giocatori magari per i motivi più disparati capiterà che per una o due sessioni ci siano troppo pochi giocatori da meritare andare avanti con la storia per evitare che i giocatori assenti se la perdano e magari possano perdere degli indizi o non capire qualcosa andando avanti a questo punto se non si vuole interrompere si può organizzare qualcosa di breve autoconclusivo che coinvolga solo i giocatori che restano che magari esplorerà il loro singolo personaggio degli aspetti minori ma che comunque quando gli altri torneranno non avranno bisogno di conoscere nei dettagli per proseguire con la campagna questo lo dico soprattutto per i neofiti è una situazione molto più comune di quello che pensate che non sempre abbiate tutti i giocatori quindi non date per scontato che voi abbiate sempre tutti i persone al tavolo e neanche questa sia la situazione standard al vostro tavolo se il bottle episode è un'interruzione momentanea nel flusso della campagna non necessariamente tutte le interruzioni dovrebbero essere così anzi un'interruzione potrebbe essere anche più strutturata avere a sua volta una linea narrativa vera e propria con molte scene magari anche in questo caso durare diverse sessioni in questo caso parliamo di filler arc se volete italianizzarlo diciamo arco riempitivo si tratta di una storia minore ovviamente parallela alla linea narrativa principale oppure un'interruzione alla linea narrativa principale che ha un suo spessore ma il cui esito il cui contenuto non va a influenzare direttamente la narrazione all'interno della linea narrativa principale anche in questo caso potrebbe essere utilizzata perché ci sono pochi giocatori al tavolo e non si vuole interrompere la campagna quindi durante la pausa estiva per quelle tre settimane i giocatori restanti giocheranno una storia parallela perfettamente legittimo ma in realtà il suo uso più comune è proprio quello di servire come contenitore per tutte quelle che sono le linee narrative secondarie o se preferite le side quest il vostro contatto nella megacorp dice potrebbe procurare un nuovo cyberdeck per il vostro netrunner ma sicuramente non lo farà a gratis e guarda caso nell'ultimo periodo un gruppo di teppisti dello sprawl ha assaltato un paio di carichi e servirebbe che qualcuno andasse da loro a spiegargli perché interferire con le politiche aziendali può portare rapidamente a un avvelenamento da piombo un filler arc a differenza degli altri due di cui abbiamo parlato è un vero proprio arco narrativo quindi avrà una sua struttura degli altri avrà dei suoi personaggi avrà un antagonista principale cosa sia un arco narrativo anche questo abbiamo parlato in un altro video si oggi sto facendo un sacco di riferimenti a roba vecchia ma questo diciamo che un video che fa da punto di arrivo per molti discorsi che abbiamo fatto nel posto degli anni anche in questo caso comunque sarà una quest che per quanto è strutturata non avrà un impatto particolarmente notevole sulla linea narrativa principale e quindi potrebbe potenzialmente essere saltata senza causare errori di continuità nella storia ad esempio se il corporativo si limitasse a dare ai giocatori il cyberdeck la storia riprenderebbe non ci sarebbe l'inter mezzo in cui vanno a combattere nello sprawl anche in questo caso non vuol dire però che sia inutile magari non è così narrativamente importante gli eventi che succedono potrebbero non essere rilevanti o almeno non essere rilevanti per la quest principale un filler arc potrebbe essere interamente dedicato alla storia personale di uno dei personaggi giocanti in cui interrompono la loro missione per andare a salvare il cugino del druido e al di là di questo per quanto magari gli eventi non siano rilevanti anche in questo caso potrebbe essere utilizzato per introdurre altri concetti altre descrizioni altri luoghi o altri elementi narrativi in generale che poi invece torneranno estremamente utili all'interno della narrativa principale e diciamo che per questo video e tutto probabilmente si potrebbe andare avanti ma diciamo che questi sono i tre usi principali della storia breve all'interno sia del gioco di ruolo sia in tutta quella che è la letteratura periodica mettiamola così probabilmente ne parleremo meglio più avanti quando andremo a parlare dei racconti episodici ma ci vorrà il tempo noi invece terminiamo qui perché adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi utilizzate one shot filler arc o bottele episode se vi piacciono se non vi piacciono se cercare di evitarli se li incoraggiate e ovviamente scrivetemi anche se avete domande dubbi o perplessità se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere le notifiche dato che le notifiche non vi arriveranno in descrizione trovate i link al server di telegram al gruppo e discord dove metto io gli annunci quando escono i video manualmente e dove tra l'altro si riunisce la community che è di ispirazione anche per video come questi per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao